Un torneo tra università come Harvard, Cambridge e Oxford, una capatina al mare ad Alba Deriatica per una due giorni di handball per le squadre che saranno via via eliminate e un nuovo percorso per la parata d'apertura, non più partenza dai Tigli ma da Porta Madonna passando per Corso Vecchio e Corso Cerulli salendo per Via Capoani e ritornando poi in Piazza Martire della Libertà passando per Corso San Giorgio. Sono queste solo alcune delle novità della Coppa Interamia edizione 2015. Ma le novità sono intanto un torneo nell'ambito della Coppa riservato a squadre universitarie. Stiamo in trattativa con molte università che hanno delle interessanti squadre di pallamano e tra queste ci sono le grandi università di Harvard, di Oxford, di Cambridge. Vogliamo collaborare con l'università, farla grande in modo tale che da un contatto sportivo possa nascere poi un contatto di tipo culturale interessante anche per l'università. Strettissima resta la collaborazione tra la Coppa e l'università di Teramo. L'università l'anno scorso ci ha ospitato nei suoi locali, ci ha aperto le braccia il rettore e noi gli siamo molto riconoscenti stiamo lavorando per contribuire ad un'ulteriore internazionalizzazione dell'università attraverso i nostri canali. Grande incognita, al di là dell'apporto di un rinvigorito comitato organizzatore dell'evento presentato presso l'università resteranno i fondi attesi da parte delle istituzioni. Le vogliamo coinvolgere nel nostro organigramma, vogliamo creare un comitato operativo e organizzatore insieme a loro in modo tale da parlarle con loro, da definire i programmi con loro, in modo tale da poter andare avanti tutti insieme. È un discorso che magari negli ultimi anni ha lasciato un po' a desiderare, però adesso noi lo vogliamo riprendere. Si dice fiduciosa nella riuscita della 43esima edizione l'assessore al Comune di Teramo, Francesca Lucantoni. Quest'anno sarà sicuramente un'edizione migliore rispetto alle precedenti e più organizzata. Abbiamo già iniziato a lavorare a novembre, io ho convocato una conferenza di servizi con tutti i soggetti che sono interessati alla partecipazione della Coppa per poter iniziare ad organizzarla per tempo e in maniera più organica, quindi siamo già sulla buona strada. Subito all'inizio dell'anno cominceremo invece a lavorare dal punto di vista finanziario. La Coppa si svolgerà dal 5 all'11 luglio 2015. La Coppa si svolgera dal 5 all'11 luglio 2015. Il suo carico di servizi con la resistenza di servizi con la simulazione del video.